Peccato, era un po' di tempo che non ci succedeva di prendere gol iniziale, anche se l'anno scorso spesso poi ci portava bene e riuscivamo a ribaltare la partita. Oggi siamo stati comunque bravi, perché poi la partita era difficile, l'Udinese era molto concentrata, perdeva anche un po' di tempo, un po' tanto, e quindi la partita era molto spezzettata e non era facile rimontarla. Il primo tempo secondo me abbiamo fatto molto bene, il secondo tempo si è giocato molto poco. No, perché stiamo giocando tre partite in sette giorni, tutti di livello col Genova è stata una bella battaglia, oggi è stata un'altra battaglia col Milan sabato. Per noi sarà la quarta partita in dieci giorni, per il Milan la terza in dodici, quindi era necessario, ma poi voglio dire i cambi rispetto a Genova sono stati Romero, Muriel, Mele, Miranciuk e mi pare Romero. Muriel davanti. Romero, Muriel, quindi parliamo di giocatori che va bene, possono giocare in qualunque formazione. Ma alla fine sono stati due pareggi contro due squadre che avevano un po' la stessa necessità, sia Genova che l'Udinese, vivono un momento di grandissima attenzione, due squadre che hanno mirato al pareggio, anche oggi in vantaggio, anche secondo tempo, comunque se c'è una squadra che prova a vincere eravamo solo noi, loro magari hanno provato qualche contropiede, è normale quando ci sono queste situazioni in classifica, l'unica cosa che mi dispiace è un po' che in questo periodo è veramente difficile giocare con continuità, perché c'è troppe interruzioni, si rimane troppo in terra, troppe volte entrano i massagioteri in campo, poi i giocatori si riprendono e corrono, questo finisce per penalizzare molto chi cerca di fare il risultato. Come coefficienti di difficoltà sarà ancora peggio perché incontriamo la prima della squadra, ci sono altri tipi di difficoltà, però andiamo a Milano per chiudere questo girone d'andata che poi alla fine ci deve dare soddisfazione, adesso speriamo di chiuderlo nel modo migliore possibile perché sono comunque 33 punti, oggi è un bel bottino, siamo insieme o vicinissimi con il Napoli, la Juventus, con la Lazio e con la Roma, per noi è comunque un bel traguardo questo, e poi dopo la partita di sabato indubbiamente può essere quella che chiude questo girone d'andata.